Eh eh, quando la moglie non c'è, mi tocca fare tutto da me, anche attaccarmi i bottoni. Eh, ma chi fa da sé, fa per tre. Vela, va bene che ho un sarto che mi fa pagare poco di fattura, ma... Accidenti, ah che roba! Adesso mi tocca chiudere questa asola qui e farne un'altra finta della... Ma io ti faccio una pens qui. Uff, moglie mia, moglie mia! Per crudele che tu sia, non dovevi andare via. Ah, buona questa! Vela, bambino che piange, devo farci il bagnetto. Ah, ma oggi si fa in fretta a farci il bagnetto al bambino. Eh, ecco qua! E mo, sapete che vi dico mo? Moplen! Moplen! Non una goccia per terra. La nuova bacinella di Moplen non si flette sotto il peso dell'acqua, eppure elastica, assolutamente infrangibile. Moplen, la più nuova, la più moderna materia plastica. Moplen resiste al calore fino a 140 gradi. E mo? Eh, e mo, e mo, e mo, e mo. Moplen! Moplen Montecatini, con questo marchio nei migliori...